MR Corporate prende vita da due parole, Mindset Revolution. Perché? Perché noi andiamo a lavorare sull'attitudine mentale delle persone e della loro crescita, ma soprattutto andiamo a rivoluzionare schemi comportamentali che in un'azienda possono creare non cambiamento, quindi involuzione più che evoluzione. La metodologia che utilizziamo è anche il coaching e il coaching è uno strumento potente che attraverso domande, attraverso il gioco e attraverso delle esperienze crea e movimenta l'emozione nelle persone. Quando lavoriamo con le persone noi andiamo a lavorare spesso sul concetto di competenza. Perché? Perché fin da piccoli noi sviluppiamo le nostre propensioni attraverso le nostre competenze. In un modo innato tutti noi sappiamo parlare, possiamo allenarci a parlare meglio. Ecco, questo è il motivo per cui noi lavoriamo sulle competenze, su quelle che vengono chiamate anche competenze umane. E lo facciamo in un modo abbastanza anche giocoso. Perché? Perché proprio come bambini impariamo attraverso il gioco. Perché noi adulti non siamo altro che dei bambini cresciuti. Lavorare in azienda sulle competenze permette di sviluppare la parte migliore delle persone nel modo più funzionale che abbiamo attraverso il gioco e la formazione. Per questo la competenza è il miglioramento del domande. Ma domanda! Grazie a tutti. Crescere infatti significa creare, creare nuove opportunità, creare nuove soluzioni e soprattutto creare emozioni perché è attraverso le emozioni che si apprende meglio e attraverso le emozioni che si cambia e si crea proprio evoluzione. Grazie a tutti. Grazie a tutti.